Sviluppo Turismo Italia è un'azienda leader nel settore turistico, opera nel mercato da circa 17 anni grazie ad un network di portali proprietari, offre visibilità alle strutture ricettive, in particolare il core business è quello dei villaggi e campeggi, quello che offre alla struttura ricettiva, che in questo caso è il nostro cliente, la visibilità su questi portali per fare in modo che il cliente che cerca una vacanza può tramite i nostri portali prendere contatto con la struttura ricettiva di interesse. Il cliente principalmente ci sceglie intanto per una storicità del nostro servizio, perché appunto siamo sul mercato da 17 anni precisamente, e in tutti questi anni abbiamo mostrato professionalità in quello che facciamo e una certa anche competenza in quello che facciamo. A supporto di questo diciamo che diamo in media un risultato, ovviamente grazie ad un'analisi che abbiamo fatto, diamo in media un risultato di sei volte più grande dell'investimento che il cliente fa con noi. Inoltre un altro punto importante è che forniamo dei report specifici ad ogni struttura ricettiva, per ovviamente consigliare il cliente nelle scelte, quindi negli investimenti, forse anche nel reinvestire con noi e anche per supporto di eventuali obiezioni che il cliente poi magari fa o ha rispetto al servizio di amministrazione. La persona che stiamo cercando è un agente che possa valutare un rapporto con la nostra azienda di monomandato. È preferibile aver avuto esperienze nell'ambito marketing, o comunque di conoscere un po' le dinamiche relative al marketing o prodotti di marketing, o avere una conoscenza delle dinamiche turistiche, quindi del mercato turistico. Entrambe le cose comunque non sono obbligatorie. Quello a cui abbiamo invece necessità è di avere persone che abbiano sviluppato negli anni un approccio più consulenziale, in quanto uno dei focus della nostra azienda è quello di avere dei rapporti longevi con i nostri clienti, quindi avere un focus sui clienti, alla gente che vuole collaborare con noi. È quello di fornire un post-forio clienti che è già di nostra proprietà. Ovviamente un rapporto provvigionale, quindi delle provvigioni sicuramente interessanti comunque in linea con il mercato. Considera questo qui pari riferimento anche al fatto che la vita media dei nostri clienti è di circa 11 anni. Questo garantisce ovviamente ai commerciali un fatturato abbastanza costante sul lungo periodo. Detto ciò, faccio presente anche che difficilmente se una persona ci piace, quindi se noi siamo interessati alla persona, ovviamente la persona è interessata a noi, non abbiamo avuto problemi nel trovare un accordo sulla parte economica, per cui su questo siamo aperti da questo punto di vista.